Buongiorno, salve, sono qui per il colloquio di lavoro. Eh, venga, dai. Salve. Piacere, Bugatti. Alessandro Sinisi. Prego, si accomodi che cominciamo, signor Seinasi. Grazie, il cognome è Sinisi. Sienese. Sinisi. Sonisi. No. No, Alessandro Sinisi. Sinisi? Sì. Mario, giusto? Sì, Mario. Bene, signor Mario, di dov'è? Di Andrea. Bari. In Puglia. Ah, sono stato a sciare. È un bellissimo posto, eh? Sì, vanno tutti in Salento. Eh? In Salento. E noi scendendo, a sciare siamo venuti in giù, eh? Dai, dai, mi parli della sua vita privata, eh? Sì, allora, la vita privata sono sposato, ho un bambino di un anno e... Non sono sposato? Sì, ho un bambino di un anno e... E ha figli? Sì, uno di uno. Uno di uno. Ah, uno di uno, complimenti, eh? Sì, ne volevo due di due e mi hanno dato uno di uno. Bene, bene. Lei fa sport? Sì, eh, sì. Gioco a calcetto. Ah, molto bene. Abbiamo qui un Valentino Rossi, eh? Poi, fa altri sport? Sì. Bocce acrobatiche. Mh? Beh, la mattina prima di andare in ufficio faccio triathlon. Ah, martedì vado in orbita, do il cambio alla Cristoforetti. Molto, molto bene. Senta, scusi, signor Mario, ma dobbiamo chiudere, eh? Che devo andare a casa, che c'è mia moglie che mi aspetta. Sa come sono le donne che, eh? Lei è sposato? Sì, con un uomo. Ah, omosessuale. Eh, questo l'ha sentito. Bene. Signor Mario, per me siamo a posto così, nel l'esito del colloquio, è curioso, eh? Eh, curiosissimo. Signor Mario, è assunto. Tanto lo sapevo che non mi assumevate. È contento, vero? Mica mi butto giù io. A domani. A solito.